10.000 nuovi alberi per la riforestazione dei comuni. Firmato l'accordo fra Regioni Emilia-Romagna e Gruppo Era per piantare e fare crescere nuovi alberi sul territorio. Mettiamo Radici per il Futuro e il titolo del progetto varato dalla Regione che punta a raggiungere 4.500.000 di nuove piantumazioni entro il 2025 grazie alla collaborazione con diversi partner. 590.000 gli esemplari già messi a dimora, quasi 21.000 fra Ravenna, Russia e Serbia, 4.700 in bassa Romagna, 8.130 nel Faentino. Con Era è stato firmato un accordo triennale per un investimento da 250.000 euro. Il protocollo prevede inoltre l'assegnazione di nuovi alberi per i clienti che hanno scelto soluzioni sostenibili per la tutela delle risorse ambientali e per la riduzione dei gas a serra. Infine, con il bando Forestazione Urbana 2021 da oltre un milione di euro e rivolte alle amministrazioni locali, entro la fine del 2021 saranno avviati 40 progetti di forestazione urbana e messa a dimora oltre 60.000 piante. La sfida per la nostra qualità dell'aria la vinciamo soltanto insieme, la vinciamo insieme ai cittadini e alle imprese. In questo caso abbiamo un partner importante, è un nostro partner che ha deciso di fare una scelta strategica e quindi Era oggi insieme a noi sottoscrive un protocollo di intesa per fare in modo che l'azienda sia insieme alla regione Emilia-Romagna in questa sfida molto bella e avvincente di 4 milioni e mezzo di alberi, quindi mettiamo radici per il futuro. Come regione metteremo a disposizione 10.000 piante che verranno messe a dimora grazie a un contributo che era nel triennio metterà di 250.000 euro facendo in modo che gli enti che aderiscono al nostro bando possano avere un supporto di carattere economico ma anche di gestione manutentiva perché, come sappiamo, sono i primi anni quelli fondamentali che servono per fare in modo che poi dopo gli alberi messi a dimora possano sopravvivere. Per cui questa partnership è importante e credo che sia anche un segnale e di stimolo anche per le altre imprese. Questa campagna ci ispira a un'azione che avevamo già portato avanti a radici lontane. Già nel 2012-2016 avevamo sviluppato un progetto di riforestazione urbana in cui coinvolgendo gli enti locali piantammo circa 3.000 alberi. Ora, avendo visto il programma Mettiamo radici per il futuro della regione, abbiamo cercato di fare squadra con la regione e sviluppare un progetto che ha l'obiettivo di piantare circa 10.000 alberi dando un nostro contributo di circa 250.000 euro proprio per la riforestazione urbana. Noi siamo in questa situazione in questo momento. Il primo bando di distribuzione delle piante ha visto la distribuzione di 600.000 piante e adesso invece siamo nell'attribuzione di progetti per i comuni che hanno aderito. Hanno aderito più di 40 comuni al bando per cui abbiamo un doppio binario che sta andando avanti, quella della distribuzione gratuita e quella degli enti locali che partecipano ai bandi della regione Emilia-Romagna. Questo secondo bando era un bando per 1.600.000 per cui stiamo contribuendo insieme a fare in modo che gli enti locali possano mettere a dimora degli alberi facendo dei progetti di forestazione urbana. Il bando per la distribuzione gratuita ai cittadini è ripartito perché lo faremo tutti gli anni. È uscito il primo di ottobre per cui anche la conferenza stampa di oggi è un'occasione per poter invitare i cittadini, gli enti locali e comunque le associazioni ad aderire anche a questo secondo bando.